vision e reality la visione e la realtà sono una sola cosa non sono mondi separati questa è stata una grande rivoluzione una grande realizzazione per me perché sapevo come intervenire su un mondo che ci sfugge un mondo che è fatto di tante relazioni eventi circostanze noi non sappiamo come 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 cambiare questo mondo che crediamo che sia fuori di noi la realizzazione che il mondo è un'espressione lontana espressione di quello che noi siamo questo mi permetteva e mi permette di intervenire sul mondo degli eventi attraverso l'essere attraverso la visione attraverso il sogno quando qualcosa succede nel mondo degli eventi bisogna fare questo in versione di marcia andare verso se stessi chiudersi essere con se stessi chasing inseguire il dolore che ci portiamo dentro essere lì non muoversi e fino a quando quel dolore si trasforma questo intervento quello che permette un uomo che osa un uomo che rischia di cambiare gli eventi